Ciao ragazze e ragazzi, come state? Spero benone! Oggi è un video al volo, non è un prodotto di quelli da paura quello che vi voglio presentare, è un prodotto comunque che vi può far risparmiare, nel senso non è assolutamente molto caro per niente, ma che se usato con costanza dà dei discreti risultati. Allora, fermo restando che vi consiglio di guardare i trattamenti naturali che vi ho consigliato, andate a vederne il mio canale, per rassodare la pelle sia del corpo che del viso, c'è l'utilizzo del bianco d'uovo sbattuto, andate a cercare proprio nei miei video il trattamento naturale che può essere appunto adoperato sia per rassodare la pelle del corpo, di glutei, pancia, fianchi, interno, braccia, addome e per esempio del viso, collo di coltè, soprattutto viso, ok? Questi trattamenti naturali hanno il loro effetto e se appunto fatti con costanza portano risultati decisamente molto buoni e ripeto molto duraturi nel tempo. Affianchiamo questo tipo di crema, non faccio pubblicità, odio fare pubblicità perché nessuno mi paga, però come mi è stato giustamente consigliato devo far vedere magari anche i miei prodotti per farvi capire, se vi interessa ovviamente, quello che utilizzo. Nivea, quindi rassodante e rimodellante Q10, allora non rimodella niente questo no, nel senso non è rimodellante, ma per quello che riguarda il discorso di rassodamento è una discreta, anzi quasi buona crema che costa comunque poco, utilizzata mattino e sera sul corpo, decoltè anche, realmente con diciamo l'apporto di qualche trattamento naturale, ripeto andate a vedere nei miei video, porta dei buoni risultati veramente, non tanto per il discorso di rimodellare quello no, ci vuole qualcosa di un pochino più forte, ma per il discorso di rassodare è un trattamento molto molto diciamo indicato, che può portare, ripeto, con anche il costante utilizzo di metodi naturali, di trattamenti naturali, è un qualcosa che affiancato al discorso trattamenti naturali, porta ad avere dei visibilissimi risultati nel giro di anche non tanto tempo, nel giro di un mesetto già. Quindi la consiglio, non è per nulla cara, si trova nei supermercati, quindi non è difficile neanche da reperire, e ve la consiglio in questo senso, risparmiare ma avere comunque un prodotto che vi dà quello che dice in questo senso. Un bacione a tutte, a tutti, ringrazio tutte, 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 tutte quelle che mi scrivono, le mie care amiche, quelle, quelle che belle, che mi scrivono, che mi danno i commenti, che mi seguono veramente, le persone sono fantastiche, sono, ripeto, fortunatissima. Ringrazio i nuovi iscritti, ringrazio le iscritte di sempre, ringrazio chi partecipa, chi mi mette mi piace, chi mi dà consigli, e ce ne sono state di persone che mi hanno dato i consigli per migliorare. Ovviamente ringrazio anche per le critiche, perché le critiche costruttive servono, non ringrazio le persone che mettono, che passano dal video, mi mettono non mi piace, e per il gusto di farlo, ma senza apporre nei commenti una critica costruttiva, perché a quel punto lì, se non metti una critica al mio video, che può servirmi a migliorare, perché sicuramente devo migliorare, però se passi solamente, metti non mi piace, tanto per il gusto, che mi viene da dire che è un po' una cosa un po' idiota, permettete di dirmelo, ok, non si dice, perché ognuno libera di fare quello che vuole, questo è il mio canale, sono libera di dire quello che penso anch'io, la trovo una scelta idiota, perché intendo dire, se passi nei miei video e metti in non mi piace, piantala di vedere i miei video, vuol dire che non ti piaccio io, non sei in grado neanche di proporre una critica costruttiva, per impormi, consigliarmi di migliorare, quindi sarebbe una cosa molto utile, come fanno in tante, e le ringrazio, ma il solo non mi piace, tanto per tesoro, chiunque tu sia, passa d'altrove, vai in altri video, perché a me se un attore mi fa schifo, per esempio, non continuo a guardare i suoi film e dico, non mi piace, non mi piace, ma perché, boh, non sono capace di dire non perché, non lo so, non lo so, cioè evito di guardarle, basta, non è senso, anzi, dedicati a quello che ti piace e lascia perdere il mio canale, levati dal mio canale, invece a chi mi fa visite, chi mi mette, scusatemi, critiche costruttive, critiche, purché bagarbate, ma costruttive, mi dice Daniela, questa non mi piace, Daniela, questo non va, questo video è sbagliato questo, secondo me doresti, quelle sono persone che adoro, perché sono delle critiche che, ripeto, mi aiutano a migliorare e ho un sacco bisogno, come tutti, di migliorare, anzi più degli altri, davvero. Oggi giornata un po' importante, quindi vi lascio, perché devo fare una cosa stamattina, vi do un bacio grandissimo e alla prossima, ricordatevi, si può risparmiare e avere comunque degli risultati discreti, se non buoni, se non che buoni. Il trucco è praticamente avere la costanza di fare, nel senso di occuparci della nostra pelle, del nostro viso, del nostro corpo e insieme a questi prodotti che magari non sono carissimi, ma che appunto possono apportare comunque benefici molto visibili, utili e sani per la nostra pelle, possiamo affiancare questo tipo di discorso con i trattamenti naturali che, vi ripeto, potete andare a vedere su questo canale in diversi video, in modo tale da fare un percorso, un trattamento, come dire, bifasico, sia con prodotti acquistati che con i prodotti che troviamo in cucina e che ci possono essere utili per trattamenti appunto naturali, efficaci. Un bacio grandissimo e alla prossima. Ciao!